YOLANDA SWITZ Dopo un anno di lavoro, a cui stiamo lavorando a questa cosa, dopo un anno, veramente, il nostro sono si è abberato. E avete letto? Ebbene sì, faremo un evento tutto nostro, dove venderemo di slime. E non solo. E non solo, anche il mio merchandising e tutte le mie cose speciali. Ma, partiamo dall'inizio. Allora, questo evento è stato organizzato da noi, con la partecipazione quindi anche di altri slimer. Ma, questo evento che si chiamerà Naples Slime con Ita. Quindi si farà a Napoli. Quindi si farà a Napoli. Vi lascerò la locandina. Daniele, mi dispiace, ma la lascerò su di te la locandina. Oh, sono un uomo locandina. Esatto, c'è qui la locandina, la potete vedere. Partiamo dall'inizio. Io ho voluto sempre fare un evento dove vendevo gli slime, da sempre, da almeno un anno e mezzo. Anche perché, se non lo fa in Olanda, che insomma è conosciuta per fare gli slime su YouTube. Esatto, da un anno e mezzo che sto organizzando questa cosa. Non è stato facile trovare il luogo, non è stato facile organizzare tutto, perché ce la siamo vista tutto noi. No, anche perché immaginate che, comunque, in Olanda, tra firma copie, lavori, altre cose, cioè è stato difficilissimo organizzarlo. Vi dico che non ci ha aiutato nessuno. Su, no, abbiamo fatto tutto noi. Io ho contattato altri slimer di Napoli perché è bello condividere insieme agli altri una passione. Anzi, che salutiamo, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, adesso ve li dirò tutti. E' bello raggruppare tanti slimer, tutti quelli che hanno la stessa passione. Ho voluto raggruppare persone del sud, quindi centro-sud. Sì, vabbè, che poi si conoscevano tra di loro, insomma. Allora, io principalmente ho chiamato due persone di Napoli che poi loro hanno raggruppato altri slimer del sud. Chi parteciperà con noi a SlimeCon Ita? Vai. Ci sarà Erika Slime, ci sarà GT Creation Slime. Mi raccomando la pronuncia, se no ci cazziamo. GT Creation Slime, Slime Market MF, Kyoto Slimes, Slime Groove, Oh Oh, Slime Oh Oh. I ragazzi di Napoli, eccoli qua. Ciao Emanuele e ciao Antonio. E Slime Peach. Esatto. Ok, questi saranno gli slimer che parteciperanno con noi, quindi ci sarò io, presenza Yolanda Sweets che venderà gli slime, insieme a questi altri, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette slimer. Cioè, gli slimer appalate. Che venderanno gli slime insieme a noi. Dove si svolgerà questo evento? Voglio ricordare che questo evento è gratis. Non si paga nulla. Non si paga niente per entrare. Però, per venire, cioè, voi venite, ovviamente, c'è l'obbligo di acquisto. Cioè, entrate, ovviamente, non pagate, ma almeno una cosa da uno stand. No, diciamo, se lo volete comprare da ogni stand, noi siamo contenti. Per tutti quanti. Ma dovete comprare almeno uno slime, un gadget, un qualcosa da qualsiasi stand voi vogliate. Anche perché ci sono tante spese, insomma. Anche perché, ragazzi, ve lo dico proprio apertamente, noi abbiamo speso veramente un sacco di soldi. Anche perché la location che ho trovato è una bomba. Dove si terrà? E quando si terrà? Il Naples Slime con Ita si terrà il 17 novembre 2018, dalle ore 15, quindi alle 3 del pomeriggio, alle ore 18, quindi dalle 3 alle 7 del pomeriggio. 3 ore di evento, ragazzi. Dove? Presso Tiempo Business Center al centro direzionale a Napoli, Isola E. Ed è molto collegato, c'è la Vesuviana, c'è Piazza Caribale di vicino, perché girano a piedi. Potete venire con il treno perché sta la Vesuviana vicino, quindi sono 5 minuti a piedi. Passate al centro direzionale a Napoli, potete venire con la macchina perché ci sono tanti parcheggi. Uo, quanti tempi stiamo! Ragazzi, c'è uno spazio immenso, vi lascio qualche foto proprio di dove si terrà l'evento. Ci sarà con noi anche un altro ospite speciale che è un Instagrammer, ma non vi diciamo il nome. Se venite, la vedrete perché è una femmina. Cosa bisogna fare per venire? Bisogna avere un pass, ok? Bisogna iscriversi sul sito. Vi lascio sotto in descrizione il link del sito e ve lo lascio anche nel primo commento. Mi raccomando però, iscrivetevi. Ragazzi, mi raccomando. Adesso vi faccio vedere, vi apparirà sempre su Daniele, la schermata. Vi lascio anche giù in descrizione la pagina di Instagram. Perché abbiamo creato la pagina di Instagram che si chiama SlimeCon Ita. Dove ci saranno tutte le foto dei partecipanti, metteremo, non lo so, le notizie, qualsiasi cosa. Esatto. Seguite anche quella pagina. Esatto. Mi raccomando. Eccola qua. Allora, ve la faccio vedere. Questa è la pagina, SlimeCon Ita. Esatto. E questo è il sito. Allora, adesso vi faccio vedere passo per passo come prenotarvi dal cellulare. Ma voi potete benissimo farlo anche dal computer. Sì, è uguale. Anzi, è molto più semplice. Vi lascio, ripeto, il link. Ovunque. Nel primo commento, basta che lo vedete scorrete. Ve lo lascio su Instagram e ve lo lascio ovunque. Ah, poi se seguite anche le pagine degli Slimer. Esatto. Vi lascio in descrizione tutte le pagine degli Slimer. Di tutti quanti. Allora, io vi registro lo schermo del mio telefono. Così vi faccio vedere passo per passo. Allora, il sito è qui. Questa è la pagina Instagram, ok? Si chiama SlimeCon Ita. Tutto attaccato. Quindi andatela a seguire, mi raccomando, perché la mettiamo tutte le novità. Anche se ci saremo prossimamente in altre città. Clicchiamo sul sito. Eccolo qua. Eccolo. Vi apre il sito. Si chiama il mio sito. Event SlimeCon Ita. Questa è la pagina che vi appare quando entrate. Vedete che ci sta scritto? Orario e sede. Tempo business center. C'è scritto tutto. Allora, non potete sbagliare. Vedete? L'evento. Ingresso con abito. Con obbligo di acquisto. La partecipazione di... E qua ci sono tutti gli Slimer scritti. Ok? Qua c'è tutto. Poi c'è questo tasto rosso. Lo vedete? C'è scritto registrati. Ma... Noi cosa facciamo? Le vedete queste tre linee in alto? Ci clicchiamo sopra. Pam! Vi esce Home. Cliccate su Home. Se lo fate dal cellulare, ovviamente. Vedete com'è bella questa pagina. È bellissima. Dai ragazzi. Sono stati bravissimi ragazzi. Delle pagine di... Che... Mi sembra che l'abbiamo fatto i ragazzi di Slimer che stanno qui. Sono stati bravissimi. Troppo bello. Guardate quanto è bello. 17 novembre 2018 SlimeCon Ita. C'è la pagina Instagram. Vedete la locandina. Vedete quanto è bello. Vi fa vedere anche dove sta. Esatto. Ubicato. E cosa ha scritto? Register Now. Anche nell'altra pagina lo deve fare. Cliccate sul tasto rosso. Su registrati. Vi riporta qui. Vi fa registrati. Ok? Sul tasto registrati rosso c'è scritto qui. Quanti di voi siete? Uno? Va bene. Allora, il biglietto vale per quante persone? Per un ragazzino o lo devono fare? Vabbè, se siete accompagnati fate un ragazzino insomma. Allora, vale solamente per un ragazzino. Ovviamente la famiglia va a ragazzi. Esatto. I genitori non valgono. C'è un po' come se fosse tipo un firmacopio. Esatto. Genitore, con il bambino, con il ragazzino. Cioè, il ragazzo accompagnato. Quindi va bene anche un solo... Se siete, per esempio, mamma, figlio, va bene anche solo il biglietto per il figlio. Sì, mi vale un preoccupato. Ok? Quindi siete uno. Quindi vai, registrati. Se siete uno, basta che mettete uno, due, per esempio, due, due ragazzini, tre ragazzini, eccetera. Esatto, di chi verrà ad acquistare i prodotti, insomma. Esatto, vedete, zero euro perché è gratis. Fate il check out. Eccolo qua. E qua vi dovete iscrivere, ragazzi. Nome, cognome, Nome ed email. Cognome, email. Basta. Facilissimo. Vi arriverà sulla mail il biglietto che dovrete scaricare, va bene anche sul cellulare, va bene anche cartaceo. Lo portate perché noi dovete sapere che abbiamo organizzato tutti i minimi dettagli. Nel giorno ci saranno anche le guardie che controlleranno tutto, quindi sarà tutto sicuro. Ci saranno due o tre guardie che controlleranno ovviamente i biglietti e che controlleranno tutto. Ok? Semplicemente mettendo il vostro nome, cognome e email e fate registrati, vi arriverà la mail, sulla vostra mail con il biglietto che dovete presentare poi all'ingresso alla guardia perché vi farà entrare. Esatto. Ok? Semplicemente questo, ragazzi. Non dovete pagare nulla. Il pass a noi serve anche per avere un numero per sapere quante persone ipoteticamente possono venire. Esatto. Cioè, se non avete il pass perché non siete riusciti a registrarvi, non è che poi non entrate, però avranno la priorità ovviamente che c'è il pass. Esatto. Ma è tutto in un qualsiasi evento. E come verrebbe. È una questione di organizzazione, ragazzi. Esatto, semplicemente. Vi lascio su Instagram. Tutti i giorni mi spammerò. Ve l'ho messa anche nella community di YouTube. Ah, poi ringraziamo anche Amarillis che ci ha fatto questa copertina bellissima. Perché voi dovete sapere che noi ce la siamo fatta fuori la locandina da una disegnatrice. Che la fa di lavoro, ragazzi. Esatto, che la fa di lavoro. Eccola qua. Ringraziamo Amarillis. Grazie Ambra. Andatela a seguire su Instagram. Vi lascio il suo Instagram della disegnatrice giù in descrizione. E anche nel primo commento di tutti i slimer della disegnatrice. Questo ce l'ha fatta lei. Ed è bravissima. Ragazzi, che dire. Io vi aspetto veramente in tantissimi. Ragazzi, voglio tutta Napoli a questo evento. Che siete di Napoli, che siete di Roma, che siete di Roma. Amore Roma, ora di treno, state quasi. Non lo so, c'è un'ora di treno potete venire, ragazzi, veramente. Anche di Roma, è un evento veramente gigante. Abbiamo messo tutto noi stessi in questo evento. Stiamo lavorando da un anno per trovare la location. Non avete idea di quello che abbiamo passato. Non è facile. Non è stato facile. La gente che non accetta, gente che è un casino. Non è stato facile organizzare. Stiamo organizzando tutti gli slime. Stiamo organizzando gli striscioni, le locandine da distribuire. Sì, poi la dobbiamo bello. Poi, ragazzi, il posto, vi posso assicurare, è bellissimo. Io vi lascio le foto. È veramente scicchissimo. È fantastico. È enorme, è gigantesco. È gigante. Abbiamo una sala che va a ferro di cavallo, così, tutto per noi. È gigantesca. È organizzato veramente benissimo. Ragazzi, spero tantissimo che berrete, che voi berrete in tantissimi. Ci teniamo veramente tantissimo. Perché ci abbiamo messo il cuore in questo evento. Ringraziamo tutti gli slimer che parteciperanno con me. E niente, noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio fortissimo. E come sempre noi ci vediamo domani all'ora e quattro... No, ci vediamo il 17 novembre. No, ci vediamo domani all'ora e quattordici e trenta, ovviamente. E poi ci vediamo il 17 novembre dalle ore e quindici alle diciotto, allo slime con Ita Naples. Non mancate. Ciao belli. Ciao.